Il prologo di Campobasso Sant'Elpidio è anche questo, il saluto della coppia di soci americani, Rizzetta e Cirrincione che si recano nei pressi della Nord Scorrano per salutare i tifosi che li acclamano. Arriva anche Patron Gesuè in compagnia del dirigente Mandragora. Si vivono minuti di festa e attesa man mano che il pubblico inizia a guadagnare gli spalti. Anche questa una piacevole novità. Si rivedono in abbondanza i colori rosso-blu, sciarpe, bandiere con i colori sociali o con l'icona dell'indimenticato Scorrano. Nella Nord compare uno striscione, conquistala per noi con la C a carattere più marcati. Il tifo si accende, richiama volentieri dagli spalti i dirigenti rosso-blu che rispondono con saluti cordiali. A circa 10 minuti dall'inizio della gara arriva un gruppo nutrito di tifosi in festa che inizia a percorrere il perimetro dello stadio attirando l'attenzione di tutti i presenti in curva Nord che si girano per assistere. Andiamo alla cronaca della gara che terminerà 1 a 1. Dopo un minuto Marchigiani coraggiosi con il tiro defilato da parte di Palladini respinta a pugni chiusi di Raccichini. Risposta rosso-blu sotto la Nord all'ottavo da Sbardella a Brenci che effettua un pallonetto insidioso e di poco alto. Che pericolo al decimo quando dal corner di Ladu corregge Sbardella gran parata di Cavalieri in angolo. Rosso-blu insistenti dodicesimo. Rossetti conclude con il sinistro ma a lato. Diciassettesimo Cogliati dribbla anche il portiere del Sant'Elpidio. Cade a terra ma non vengono ravvisate irregolarità dalla signora Gasperotti di Rovereto. Ospiti costretti al cambio dentro Raffaeli fuori Palestini. Al ventitresimo azione ficcante di Van Zan che offre a Cogliati che a due passi dalla porta trova una deviazione avversaria in angolo. Partita dignitosa degli ultimi della classe. Al ventiseiesimo dopo il tiro di Ravanelli respinta di Raccichini e grande sforbiciata di Spagna che realizza. Gol annullato per fuorigioco. Al ventinovesimo battuta rapidamente una punizione per gli ospiti. Può andarsene Spagna fino in area di rigore dove mette al centro Fabriani. Bravo a rinvenire. Partita rimane tirata. Quarantunesimo cross di lato. Testa Cogliati. Non ci arriva Vitali. Davvero per poco. Finisce senza reti la prima frazione. Tutto sommato anche equo il parziale. Con le immagini di Francesco Di Rienzo. Siamo nella ripresa dopo un minuto parato a terra da Cavalieri il mancino di Vitali. Quasi al minuto tre. Gran palla di Ladu per Rossetti. Diagonale Cavalieri respinge davvero molto bene. Al quarto cross di Van Zan raccoglie Vitali al volo. Allontana la difesa in maglia bianca. Cudini comanda il riscaldamento dei membri della panchina. Il gol tanto atteso. Eccolo all'ottavo. Gran pallone di Van Zan dalla sinistra e girata di testa di Rossetti che porta in vantaggio il rosso blu. Una torsione con i tempi giusti. Rossetti e Selvapiana esplodono di gioia. Il giocatore si toglie la maglietta mentre sugli spalti si vivono attimi di grandissima felicità. Quinto gol per Rossetti. Dal quarto d'ora due cambi decisi da Cudini. Dentro Mancini ed Esposito fuori Vitali e Brenci. Esposito non giocava dal 2 maggio. Replica dei marchigiani. Al diciannovesimo da Spagna per Palladini che dal fondo mette al centro dove nessuno dei marchigiani può deviare. Il pareggio eccolo al ventunesimo angolo di Orazzi e gol di testa di Palladini al centro. Gli ospiti pareggiano e non si accontentano mica perché un minuto più tardi soltanto lo stesso Spagna lanciato a rete conclude trovando la presa centrale di Raccichini. Campobasso che cerca di ritrovare quella lucidità che manca. Al 34esimo corsa di Cogliate a destra e cross che attraversa tutta la luce della porta prima di una deviazione sbilenca di Guesteri in angolo. Un solo minuto dopo il pallone lavorato, preparato da Esposito viene calciato con il muro improvvisato da Palladini che è provvidenziale. Cambi dentro Di Domenica Antonio e Martino al posto di Lado e Fabriani quasi al 42esimo taglio di Esposito e testa di Rossetti che termina a lato. Sei i minuti di recupero manca ancora tanto. L'occasione più corposa è al cinquantesimo quando dalla destra raggiunge un cross di Di Domenica Antonio. Rossetti può segnare da due passi ma la sua conclusione viene sporcata in calcio d'angolo. Davvero incredibile. A fine gara rimane il corposo più sé sul notaresco ed il pubblico che assiepa all'esterno di Selvapiana. Scene anche distensive come il saluto di Fracoiati e qualche tifoso. Quattro del ritorno, dei rosso-blu nel professionismo.